Monti a manovra aperta, fase 2 incontri internazionali con parti sociali a confronto con le misure per lo sviluppo. Liberalizzare quanto costa? Difficile fare una stima perché non sono chiari punti della caduta. Arrivano e distingue dalle regioni. Libertà d'orario per i negozi, una prima stima dopo l'avvio della riforma. Caccia ai killer di Roma, sarebbero due magrebine attorno ai quali il cerchio si va stringendo. Un mese sulla torre, al binario 21 della centrale di Milano, i lavoratori della wagon Leeds in lotta. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro notiziario che apriamo naturalmente con il governo che continua nello sviluppo della sua manovra. qualche reticenza da parte dell'esecutivo dovuto ai collochi con le parti sociali in Italia e con i leader europei. Per Monti sarà un mese di fuoco. Vediamo. Mario Monti non si sottrae alle telecamere, anzi la professore ha svolto un'altra delle sue lezioni nel programma Che Tempo che fa di Fabio Fanzio su Rai 3. Alla fluviale conferenza stampa di fine anno il Premier ha aggiunto una serie di apparizioni che comunque non hanno ancora chiarito fino in fondo i momenti di caduta delle misure salva Italia. Misure che dovranno caratterizzare la seconda fase delle quali ha assicurato Monti vanno escluse altre manovre ma solo inseriti il consolidamento dei conti. Sulle liberalizzazioni il Presidente del Consiglio ha assicurato che partiranno subito anche se non è stato preciso su chi e sul come. Il governo resta vago su misure che potrebbero scatenare tensioni nel Paese quali i provvedimenti sui taxi e sulle farmacie e ciò forse dovuto alle necessità di completare il giro di incontri con le parti sociali. Di sicuro è che il governo ha messo in campo elementi simbolici di lotta all'evasione come è avvenuto nei blitz di Cortina e Portofino. Certo è in Italia la normalità del controllo sull'evasione assume sempre un connotato da fuori sacco e provoca reazioni clamorosamente scomposte. Altrettanto certo è che sulle pensioni si è andati da Palazzo Chigi molto sul concreto come hanno più volte segnalato i sindacati e lo stesso Partito Democratico. Sarà questo l'argomento principale dell'incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e la ministra del welfare Elsa Fornero. Il rilancio dell'occupazione e lo sviluppo sarà la questione prioritaria che Cislewil pongono come del resto aveva fatto venire a discorso la leader della CGL Susanna Camusso. Ricordiamo ancora quanto sarà chiesto ai consigli dei ministri in programma lungo questo cammino. Monti punterà all'approvazione di norme in preparazione del 23 gennaio quando ci sarà a Bruxelles l'Eurogruppo. Il 30 è in calendario il summit dell'Unione Europea dedicato alla crescita da inserire in un vero e proprio trattato da siglare entro il mese di marzo. Molto importante risulterà l'incontro con Angela Merkel di mercoledì prossimo. Ci sarà un decreto al mese, ha promesso il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Attesi perciò lo sblocco in modo celere dei cantieri per le infrastrutture. Sono impegni incalzanti che avranno luogo in un momento estremamente delicato per l'equilibrio dell'intero paese. Passiamo ora a due notizie. Secondo Corriere Economia occorrerà un'altra lunga settimana di lavoro per dedicare interamente al fisco. Quest'anno dovremo faticare sette giorni in più rispetto al 2011 per pagare tasse e contributi. Colpa delle manovre estive ed invernali non fa naturalmente molta differenza. Richieste dall'Unione Europea per cercare di tamponare quello che è il nostro deficit e soprattutto la crisi dei debiti sovrani. Agli italiani lo sappiamo è stato chiesto un grosso sacrificio ma solo sopportando le maggiori tasse introdotte nei mesi scorsi e i giorni di lavoro necessarie per pagarle, questo sacrificio emerge ora con tutta la sua evidenza. La cancelliera tedesca non vede ragione per pensare ad una successione del presidente Christian Wolff. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Stephen Seibert. Seibert ha smettito ancora una volta che la coalizione stia procedendo a consultazioni su una possibile successione di Wolff colpito da una violenta campagna mediatica a causa di una telefonata fatta a puttiano tedesco Bild per tentare di impedire la pubblicazione di un articolo su un credito privato ricevuto da un amico imprenditore. Passiamo ora a un servizio che riguarda le liberalizzazioni. Costeranno le categorie e soprattutto faranno guadagnare in efficienza. Sono dei quesiti naturalmente legittimi mentre si annunciano decreti su taxi e farmacie. Non è chiaro però quando partiranno. Il ministro Passera annuncia un decreto al mese ma cominciano ad esserci dei distingui importanti regione per regione come ha cominciato tra l'altro il Lazio. Vediamo. Liberalizzazioni. Cosa succederà? Taxi, farmacie, ordini professionali, orari nel settore della distribuzione e quant'altro componga l'italica galassia delle categorie a numero chiuso. Il presidente del consiglio Mario Monti ne ha parlato diffusamente annunciando vedrete altre operazioni di politica economica meno indigeste per fare crescere di più concorrenza e merito in diversi settori. Osservando che vengono chiamate liberalizzazioni e non ho niente in contrario su questo termine, anche se può sembrare ideologico, significa ridurre le protezioni di diversi mondi in cui ogni categoria in Italia cerca di avvantaggiare chi è incluso nella roccaforte a danno di chi è fuori. È sicuramente più facile a dirsi che a farsi, ha poi riconosciuto lo stesso Monti. Prova ne è la reazione di Renata Polverini, presidente della regione Lazio, proprio sul tema degli orari per i negozi. Siamo in contatto con le associazioni degli esercenti, domani mattina li abbiamo convocati in regione e decideremo insieme a loro. Al di là dell'apprezzamento o meno del provvedimento che riguarda l'orario dei negozi, dobbiamo anche poi valutare come regione se c'è stata effettivamente un'invasione di campo su competenze regionali per cui anche solo per salvaguardare il principio appunto di materia delegata alla regione magari vale la pena di ricorrere. Comunque stiamo valutando. E proprio su riguardo la liberalizzazione sugli orari del settore della distribuzione vediamo cosa è successo meglio in quest'ultimo periodo nel servizio che segue. Non è ancora entrata effettivamente in vigola la direttiva del governo Monti sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, ma già fioccano le polemiche. Fa discutere la deregulation dell'apertura dei negozi 24 ore su 24. Non dico che non sia una buona cosa, però certo che non è il massimo per nessuno, perché se poi lavori una sera in più c'è il rischio che poi magari in giornata non fai niente perché la gente non compra più. Ne abbiamo approfittato, ecco, abbiamo approfittato sia nell'apertura come orario che nella chiusura, anche perché la gente c'era, quindi non sembrava corretto non rimanere aperti ancora un po', oppure aprire in anticipo. Ha creato dei problemi? Come va questa nuova apertura? No, non ha creato nessun problema, anche perché adesso continueremo ad avere i nostri orari. è normale che se c'è tanta gente si resta aperti ancora un po' o si apre un po' prima. Io ho lavorato per un lungo periodo in un negozio che teneva aperto fino alle 23, però il tipo di clientela dopo una certa ora cambia, sono più che altro stranieri che magari stanno in giro a perdere magari un po' di tempo, magari chi è in vacanza piuttosto che... credo che in Italia ancora non siamo abituati a avere un orario del genere. Secondo le associazioni di categoria, sono soprattutto i negozi di abbigliamento a valutare e aver già applicato in questo primo fine settimana di saldi invernali, l'estensione degli orari di chiusura è superato all'orario previsto delle vecchie norme comunali. Passiamo ora al servizio che riguarda la caccia ai killer del giovane uomo cinese e del suo piccolo a Roma. Tutta la capitale è blindata, impossibile per i due lasciare il paese sia via mare che via era. Tutte le stazioni infatti ferroviare, le autostrade e le dogane sono nello stato di massima allerta, ma vediamo gli sviluppi in questo servizio. Sarebbero di nazionalità marocchina i killer del 31enne Zuzeng della figlia di nove mesi, uccisi durante una rapina in strada a Roma nel quartiere di Torpignattara. I loro volti sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza. Uno dei due presunti assassini sarebbe già sfuggito alla cattura venerdì. I carabinieri sono arrivati fuori tempo massimo nell'irruzione a casa del sospettato. Il giovane ha precedenti penali per rapina, mentre l'altro sarebbe incensurato. Pertanto la caccia all'uomo prosegue. La città di Roma è blindata da cerchi concentrici formati da pattuglie delle forze dell'ordine. I carabinieri ritengono impossibile per i due lasciare il paese via mare o via aerea. Per i fuggiaschi l'unica soluzione percorribile è via terra, ma tutte le stazioni ferroviarie, le autostrade e i confini di stato sono poste al massimo livello di allerta. Possibile che i due presunti killer si siano separati. Uno di loro potrebbe aver raggiunto Milano. Le impronte lasciate sui caschi e sulla borsa ritrovata in un casolare hanno consentito agli uomini dell'arma di isolare il loro DNA. Del resto l'improvvida scelta di abbandonare la borsa con dentro un telefonino ha fornito agli investigatori un'antenna formidabile per localizzare il maltolto. Intanto a Torpignattara prosegue il via vai dei residenti e stranieri davanti al portone della casa della piccola Joy. La madre è ancora sotto shock, continua a piangere e da due giorni non tocca cibo. è controllata strettamente e tenuta sotto sedativi. La donna non riesce a darsi pace e le sue condizioni psicofisiche peggiorano a vista d'occhio. Passiamo ora al prossimo servizio che riguarda in particolare gli esteri e notizie di catastrofe per quanto riguarda il paese oceanico della Nuova Zelanda perché una nave petroliera spezzata in due tronconi è arenata sugli scogli facendo fuoriuscire tra l'altro numerosi litri di grege ed una mongolfiera che si è schiantata a terra dopo aver toccato i fini dell'alta tensione. Non è iniziato sicuramente bene il 2012 della Nuova Zelanda ma i dettagli li scopriamo nel prossimo servizio. Brutto principio del 2012 in Nuova Zelanda con due disastri da fronteggiare. Per uno si tratta del classico incubo di ritorno mentre nelle scorse ore la tragedia si è affacciata nuovamente sotto forma di un disastro aereo. Stiamo parlando di una petroliera fantasma e di una mongolfiera. Vediamo di mettere ordine in notizie così gravi. Partiamo dalla petroliera a causa della quale torna in Nuova Zelanda la paura del disastro ambientale. La nave arenata da tre mesi a largo delle coste orientali si è spezzata in due tronconi. Centinaia di container sono finiti in mare durante la tempesta. La guardia costiera sta tentando di recuperare quelli rimasti a bordo. La porta container si è incagliata lo scorso 5 ottobre sulla barriera corallina. 350 tonnellate di carburante sono riversate in mare provocando una marea nera che ha ucciso migliaia di uccelli marini e inquinato chilometri di costa. Più recente ma altrettanto pesante contando le vittime è il tragico incidente che ha colpito ancora il paese dell'oceania. Undici persone hanno perso la vita a bordo in una mongolfiera che si è schiantata al suolo dopo aver urtato una linea elettrica. Il pallone ha preso fuoco a 100 metri d'altezza mentre era in volo nei dintori di Cartenton a nord della capitale Wellington. Nulla da fare per il pilota e le cinque coppie che si erano regalate alla gita per le festività natalizie. Impotenti parenti a terra hanno assistito alla terribile scena. Il cesto in fiamme veniva giù come un missile, ha raccontato un testimone. Si tratta della peggiore sciagura aerea neozelandese da più di 30 anni. Servizio che riguarda ora una protesta che va in atto da moltissimi giorni. Parliamo della torre al binario numero 21 della stazione centrale di Milano. La lotta disperata dei lavoratori della Wagon Leeds contro i licenziamenti sono sostenuti dai compagni di lavoro e dai cittadini milanesi. Dopo aver passato le feste osservano dal lato della torre la situazione che però al momento appare in stallo il servizio. È passato un mese da quando Carmine Rotatore, 45 anni, Oliviero Cassini, 48 e Beppe Gison, 40, si sono arrampicati sulla torre Faro accanto al binario 21 della stazione centrale di Milano. Gli operai, 800 in tutto il paese, licenziati dalla Wagon Leeds l'11 dicembre scorso per la soppressione dei convoi notturni, chiedono di riavere il loro lavoro e il ripristino dei treni notte senza i quali, secondo loro, l'Italia è spezzata in due. Continuerete a resistere? Sì, 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 noi continuiamo finché non ci danno certezze, noi arrivaremo qua. Ai piedi del traliccio i colleghi hanno organizzato un presidio a rotazione, accampati con tende e coperte. Noi siamo sempre in attesa di una convocazione a livello nazionale, anche perché le numerose associazioni che ci sono qui, anche a Milano, in particolare quella pugliese e quella calabrese, ma anche della Svizzera e della Germania, hanno sottoscritto la petizione e anche loro stanno tentando, diciamo così, di comunicare al Ministero per avere un tavolo di trattativa, perché questi collegamenti, in particolare con le Puglie e con la Sicilia, stanno creando un grande disagio. Abbiamo visto che ci sono stati importanti documenti approvati dai vari consigli, si stanno muovendo moltissimi sindaci, soprattutto della Puglia, stiamo leggendo su Facebook e su internet. Speriamo che si faccia sentire anche la voce del Sud. Bene tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie.